recensione maia lazio special anniversario non so di che cazzo insomma non so tanto esperto dei sbiaditi e comunque la maglia è figa almeno è quella che ritengo più passabile da romanista vabbè è un regalo per un amico ci tengo a specificarlo non vorrei essere giudicato mai però piace molto il tricolore sulle maniche sul colletto mizuno dettagli del tessuto fatto molto bene senza numero senza sponsor l'etichetta japan engine red vabbè insomma la maglia c'è sta questa è la maglia del ragazzi vediamo il retro l'etichetta sport performance e tutto quanto va bene molto molto bella colore blu azzurro e non celeste come la maglia diciamo di casa e questo è quanto bel prodotto spero piaccia passiamo al prossimo questa è la vera figata dell'ordine altro che qua rubaccia da prima pantaloncino del river plate adidas e niente pantaloncino del river plate dell'adidas da paura non vedrete provarlo un saluto a tutti e un bacio a pubblico